la cucinnellina ci sei andato? si allora ora si pesano ma sono tre funghi uno più bello dell'altro a parte uno è un po' sul mangiato ma ce ne sono qua questo è una cosa meravigliosa un po' blu questo è anche duro come questo alzalo un po' per avere un'idea così all'incirca questo fungo sarà così occhio e croce un mezzo chilo ma anche seietti beh riposalo Bruna prendi un po' per l'altro grosso prenderlo tutti e due vai una lavora uno insieme da una mano e dall'altra ecco allora ecco ma non mi fate arrabbiare per favore perché poi succede a queste cose spostate un po' verso il gambo verso di me bravo così così ok